Da oggi il Codacons Cilento attiva un nuovo servizio per i cittadini che vogliono segnalare o denunciare situazioni di degrado o sperpero di denaro pubblico. Basta contattare il 345 77 28 260 o mandare una semplice mail a codaconscilentocomunivelini.com. Nel nostro territorio molte opere rimaste incompiute rappresentano uno spreco di denaro pubblico che graverà su tutta la collettività nel futuro ma nessuno ne parla perché l'indifferenza e il senso di impotenza hanno portato i cittadini alla rassegnazione spiega Bartolomeo Lanzara presidente del Codacons Cilento risorse economiche sottratte alla collettività utilizzate per finanziare strade che non portano in nessun posto perché lasciate a metà strutture inutilizzate a causa degli elevati costi di gestione lasciate in stato di abbandono e tanti altri problemi spesso poco conosciuti dai cittadini molte sono le segnalazioni che riceviamo quotidianamente non possiamo far finta di niente continua Lanzara per questo il Codacons raccoglierà le proteste del territorio e le trasformerà in denunce alle autorità competenti questo è il servizio che verrà offerto a tutti quei cittadini che affidano ai social la loro indignazione con questa iniziativa speriamo di portare a galla le troppe illegalità diffuse che spesso emergono e mortificano il nostro territorio in questo modo offriremo anche una fattiva collaborazione agli organi preposti a tali controlli confidiamo in una fattiva collaborazione dei cittadini grazie a tutti